Abbiamo pensato che le istituzioni devono effettivamente giocare il loro ruolo in tutti i campi per cercare di dare informazioni corrette, perché questa pandemia, questo virus, noi lo battiamo con la scienza, quindi il vaccino, con tutto quello che lo sviluppo, i farmaci, ma anche con la conoscenza, quindi con la corretta informazione.